Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, anche perchè non mi voglia, ma niente, ho qui da portarvi ben 10 pacchetti di... Vai, bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Se non lo faiatch e pokemon, non si entrano mai. Per così. Allora, io dovrò andare in bambina, e non farò una foto, mi ha... e salti dei soldi qui la carta guarda bellissima Seconda carta, Anna, bello sto start, mi piace, ho avuto il coso da l'ascondo dorato che è abbastanza buono e liscio, l'ultima carta, ah, ho una carta ultra bella, avete il Taffaele, bene, oppure questa non è Anna, stessa, e ultima carta, è un ricatto pixel art, anche questa artwork è abbastanza buona, è molto rugosa, mi piace come ha messo il fatto, tutte le volte ovviamente queste carte è medicola, ah, 1,50 euro, sono sbagli, passiamo con l'altra, mi sono passata molto, 1,50 euro è abbastanza poco, Partiamo subito con la prima, ok, questa è una giù semplice, Seconda carta, abbiamo un oggetto, uno strumento, macchina fotografica, ok, Terzo oggetto, terza, terza carta, scusate, sempre un oggetto, però, l'accetta, e questa è di grado S, è molto bella, cioè, non so se è grado S o cosa, non so cosa serve veramente, devo informarmi di più, Sì, sì, carino come artwork, L'ultima carta, La stanza di chi? Di Cico, Carino, Tutto lo scheletro, poi, Mi gusta, Ultima carta, Uh, corridoio pieno, Tre, Nell'altra etapa è sempre tutta roba nera, Più è riciccio, Carta, Che figata, Allora, Quanto figo, Terzo pacchetto, Ovviamente queste sono carte da gioco, cioè, possiamo, un giorno quando appena avrò abbastanza carte, semmai le compro di nuovo, farò una partita, però mi devo informare come si gioca, Eh, prima carta, abbiamo a, Dove sono mazzo, Ah, Giorgio, bello, Una valigia, Sulla carta, Abbiamo a piadina, Guarda quanto è bella, Terza carta, Abbiamo, Scatola delle pillole, Soprattutto questa, Abbastanza carina, guardate, Quella, Quella bella, Si vuol dire, E l'ultima carta, Abbiamo, Un'abilità, Allora, Questa qui, L'abilità, Davila app, Avanzamento di livello, Ultima carta, Arrinchiricopix, Bello, bello, Andiamo qua, Mancano, Ancora un po' di pacchetti, Ancora un po' di pacchetti, Aspettate un attimo che metto, Le carte, Bene, Metto in ordine, Sono poi, Stamolotte, Devo comprarmi anche delle costelline, O un, O prende uno dei miei vecchi, Forse, Un altro pacchetto, Con tutta la violenza del mondo, Perché, Si, A questo punto, Iniziamo a fare così, Se no, Allora, Abbiamo, Fire, Il telefono, Ascensore, Gas, Bombola di gas, Questo è una carta, Un beleno, E un fantasma, E un fantasma, Ovviamente, Se volete leggere, Se è scritto tutto qua, Andiamo a prendere, L'altra carta, Abbiamo una camera di staccato, Che è bella, Wow, Mi piace, Facciamo incontrare, Sto subito, Bene, La Sara giochi, Anche questa, Molto bella, E carina, Come, Come carta, Bimba, Siamo, 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 La racchetta palle, E di nuovo, No, Mi sta cadendo il telefono, Madonna, Scusate, E di nuovo, Piatino, Bene, La telecamera, Sono, Biccate, Sono, Un pacchetto, Qua, Via, Uh, Questo non so se è raro o meno, Ma, E' carino, Biglietto mystery, Veramente carino, Con la carta, Però questa, Con la telecamera, Con la luce, Fa, Un, qui c'è il formaggio benissimo per i suoi spuntini abbiamo Alex con questa giacca molto sexy e poi abbiamo salvagente, interessante